13 e 26 Sospetto rilocalizzato Missione il pane della vita 10 e 20 area nord di Palmetto Vedo un arabo Borace Due scatole di Borace Nelle leggi dei governanti Separeranno voi e me dall'amore di Dio Dovevo essere in un posto oggi Invece sto parlando con la mia nipotina ventenne Che d'un tratto vuole diventare un detective privato Cerco solo di aiutarti Non mi serve il tuo aiuto Che ne sai del Borace? Borace? Questo è una specie di veicolo di sorveglianza Uno dei tanti, sì Attacchi chimici Esercito degli Stati Uniti in servizio di sicurezza Ora 17.00 del 18 settembre Vado dentro Pensi che siano Uno di quei veterani Un po' svitati dopo il Vietnam Ma cazzo Non è quello che pensavamo Ricevuto? Vieni la bocca a freno, signorina Aspetta, zio Paul, per favore Non hai la più pallida idea di quello che c'è in gioco qui? Bene, mi dispiace Non avevo intenzione di sconvolgere niente I vincitori non mollano Chi molla non vince Quando il gioco si fa duro Io picchio più duro Questo sono io Questo è il mio paese Io non ho sentito di sconvolgere niente Grazie a tutti.